Si è finalmente concluso l'iter amministrativo che ha autorizzato l'assessorato regionale all'istruzione a trasferire agli ERSU siciliani la somma di oltre 7 milioni di euro, destinata alla liquidazione dei contributi straordinari a favore degli studenti fuorisede che ne avevano fatto richiesta a seguito di apposito abbandono nella scorsa primavera. Si tratta di un intervento straordinario disposto su iniziative del presidente Musumeci e dell'assessore Lagalla per compensare gli studenti siciliani fuorisede delle maggiori spese infruttuose sostenute nel periodo di lockdown, periodo in cui tutte le università sono state chiuse. Oltre a sbloccare questi fondi, la regione siciliana ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro a favore delle università di Catania, Messina e Palermo, destinati a contratti aggiuntivi, oltre quelli ministeriali, per le scuole di specializzazione di area medico-chirurgica. Si tratta di 43 contratti che privilegiano in particolare le specialità connesse all'urgenza ed emergenza sanitaria e in relazione alla pandemia da Covid-19 quelle riguardanti le malattie infettive e le discipline epidemiologiche. Non è tutto, poiché l'assessorato ha altresì pubblicato, a favore di tutti gli etnei siciliani, il bando per il potenziamento dei dottorati di ricerca. Si tratta di un intervento di altri 3 milioni di euro che destina a borse di studi aggiuntive, ciascuna del valore complessivo di circa 60.000 euro e di durata triannale, ai corsi di dottorato che le università siciliane hanno abbandito per danno accademico 2020-2021. Esse saranno attribuite ai singoli etnei in proporzione al numero degli iscritti, una misura ovviamente che interessa moltissimi studenti siciliani. La fruizione delle borse regionali comporterà anche l'obbligo di un periodo di ricerca all'estero, variabile da 3 a 6 mesi, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione degli studi. Si tratta quindi di un totale di 15 milioni di euro che la regione destina al mondo dell'istruzione e della specializzazione. Soddisfatto l'assessore Ramo Roberto Lagalla, che parla di come sia necessario puntare sulla formazione del capitale umano e in generale sulla competitività dei giovani, anche a livello internazionale.